Dalla serata di ieri è percorribile il tratto della variante alla 219 Pian D'Assino che collega Madonna del Ponte a Mocaiana. L'inaugurazione c'è stata ieri, allora dopo la partecipata cerimonia che ha visto presente tanta gente, oltre alle autorità naturalmente andiamo a documentare il primo giorno di attività effettiva di questa nuova arteria. Poco oltre lo svincolo di Madonna del Ponte notiamo in direzione ovest qualche automobilista che rallenta, presumibilmente per aver mancato l'uscita desiderata, quella che conduce ai centri abitati o addirittura alla statale Contessa e quindi al nord delle Marche. L'indicazione della località raggiungibile è posta in entrambi le direzioni qualche centinaia di metri prima dello svincolo, denominato Gubbio Nord. Per il resto il traffico lungo i 6 chilometri in una metà mattina feriale scorre veloce. Incontriamo soprattutto autovetture, per loro i tempi di percorrenza si sono notevolmente abbattuti. A Mocaiana i camion provenienti da Umbertide colgono al volo l'occasione e imboccano il nuovo tratto di strada. In realtà per chi proviene dall'Ai45 ed è magari diretto nel Pesarese, anche qui aiuterebbe un cartello con l'indicazione di Fano ad esempio. I 6 chilometri circa terminano a Mocaiana dove quel ponte sta ad indicare che quest'opera deve essere completata in attesa della prossima realizzazione fino all'abbivio per Pietralunga per i quali sono disponibili 74 milioni di euro di finanziamento nella legge di stabilità e ovviamente con l'attesa di arrivare a Monte Corona con gli altri due stralci previsti da Governo e Anas. Andiamo a vedere come è cambiata la via.